Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di foro di oggi, sabato 26 gennaio. La notizia della giornata riguarda ancora l'immigrazione, però ci si mettono di mezzo i magistrati italiani. Per la verità l'accusa, i PM del Tribunale dei Minori di Catania, ordina alla politica, cioè sostanzialmente a Salvini, di far sbarcare 13 dei 48-47 migranti che sono sulla famosa Sea-Watch 3, la famigerata direi Sea-Watch 3, questa barca che batte bandiera olandese ed è gestita da una ONG tedesca, la quale cosa fa? Si presenta nelle acque libiche, prende i migranti, in gran parte in questo caso sono anche giovani, si presenta di fronte all'Italia e i magistrati chiedono a Salvini di far entrare questi migranti, soprattutto quelli giovani in Italia, 13 di cui 8 non accompagnati. A raccontarla così questa storia, uno dice ma di che stiamo parlando? Vi sembra normale che un'organizzazione non governativa si permetta di fare la politica dell'immigrazione di tutta Europa? Com'è possibile che loro si mettano apposta nelle acque territoriali libiche o a diretto contatto con le acque territoriali libiche per beccare i migranti che sanno che peraltro, e soprattutto gli spacciatori di migranti, cioè i traghettatori di questo traffico orribile di esseri umani, sanno che ci sono queste navi oggi poche delle ONG, li caricano lì, li portano verso l'Italia e poi ci sarà sempre un magistrato che chiederà conto, ma anche un'umanità che chiederà conto, non c'è bisogno solo del magistrato, ma una cosa è l'umanità, anche il dibattito politico feroce e giornalistico e l'altra cosa è un magistrato che ordina un politico di fare qualche cosa, non mi sembra esattamente uno stato straordinario quello di un magistrato che ordina un comportamento amministrativo e politico, è una roba di quelle che in un mondo normale dice ma di che stiamo parlando? Buongiorno a Giordano che vedo che si è collegato a ora. Secondo le ricostruzioni ovviamente questa Sea-Watch sarebbe andata in acque libiche e non avrebbe assolutamente chiesto come prevedono i trattati internazionali fermati da tutta l'Europa, non avrebbe chiesto aiuto alla guardia costiera libica, ma sarebbe andata vicino all'Italia e a quel punto ha detto eccoci qua con i migranti, è una cosa pazzesca. In realtà oggi Spataro, Armando Spataro, un magistrato molto serio, ha combattuto duramente contro il terrorismo e le mafie in Italia, insomma Spataro sulla prima pagina della Repubblica spiega per quale motivo i porti non si possono chiudere, da un punto di vista legale perché dice che i porti devono essere sempre aperti per coloro che devono essere salvati e va sopra ogni legge. Questa notizia di giornata ovviamente si intreccia alla seconda notizia di giornata che riguarda sempre migranti e Salvini e cioè l'autorizzazione chiesta per procedere contro Salvini da parte del Tribunale dei Ministri. E qui ci sono due profili, diciamo un profilo tecnico che è giusto o sbagliato quello che sta chiedendo il magistrato e un profilo politico e cioè che l'autorizzazione a procedere deve essere concessa dai politici e dal Parlamento e la commissione presieduta da Gasparri come si presenterà? Anche perché in questa commissione sedano sette grillini che hanno fatto sempre la loro battaglia contro ovviamente l'idea che la politica possa creare uno scudo rispetto alle scelte della magistratura. E beh, insomma, secondo il fatto quotidiano di oggi, quindi non ci saranno dubbi, Di Maio ha detto i suoi votate per l'autorizzazione a procedere a Salvini, ma lo stesso Salvini pare che la voglia. Immaginate voi che cosa sia, commentano tanti notisti politici oggi, arrivare in campagna elettorale all'europea con i magistrati che ti hanno chiesto l'autorizzazione a procedere, i politici te l'hanno concessa, per quale motivo? Per sequestro di persona, perché lui si è permesso di non far entrare 170 migranti presi dalla solita si-watch o da ONG nelle acque territoriali libiche che poi sono arrivate. Vedo Gianpaolo Serino che ci sta guardando, Gianpaolo ha fatto un pezzo bellissimo che tra poco vedrete tra oggi e domani su Adrian sul sito nicolaporro.it e quindi mi raccomando sempre il sito nicolaporro.it per vedere tutti i collaboratori e lo stesso Nicola Porro che scrivono su questo sito e anzi vi ringrazio perché in tantissimi state seguendo quella nostra avventura, un giornale liberale e libertario fuori da ogni schema. E continuiamo sulla questione di Salvini, quindi il fatto dice una cosa molto semplice, dice vabbè i grillini voteranno e se votano i grillini, fa i conti il Corriere della Sera, la cosa è fatta perché grillini e PD voteranno per l'autorizzazione a procedere e si arriverà a 13 a favore all'autorizzazione a procedere e 9 contrari. Insomma sarà fantastico che con Salvini ci saranno i suoi ex alleati o attuali alleati di Forza Italia. Travaglio dice ma insomma non dite stupidaggini, in realtà l'ho detta io questa stupidaggini, non potete considerare Berlusconi come Salvini, ah eh sì perché Berlusconi voleva negare i suoi reati mentre invece Salvini li rivendica. Eh no amici miei non è esattamente così, l'ho scritto e l'ho visto e l'ho messo in un pezzo che vedrete sul mio sito anch'esso. Salvini è quasi mafioso come dice Bolzoni su Repubblica perché si fa paciare la mano. Salvini è attaccato dai giudici per qualsiasi cosa, dai 49 milioni ai eh che ti sei dimenticato Travaglio su cui lui dice che non è colpevole fino ai mh alla questione della 18. Salvini è antidemocratico come abbiamo letto ieri da Michele Serra sulla Repubblica ed è come Maduro anche se lui è antimaduro. Insomma è straordinario come in realtà questa pelle di Salvini possa essere gestita come più vi piace. Eh mo la cosa fantastica della giornata è che ehm la questione Maduro e Gaido ma come cavolo si chiama il secondo presidente del Venezuela è diventata una notizia fondamentale per il Corriere della Sera pagina 2 pagina 3 mentre per la stampa secondo me colpaccio del giornale torinese perché pensate un po' voi intervista Gaido il quale dice che vuole fare grandi assemblee di popolo che una parte dell'esercito sta con lui ma la cosa fondamentale che dice Italia stai con me cerca di stare dalla mia parte e in un retroscena della stampa unico giornale oggi in Italia si dice come l'Italia sia in realtà l'unico paese in Europa che sia in maniera equilibrata né con l'uno né con l'altro né con lo Stato né con le Brigate Rosse né con Maduro né con Gaido. Fantastico perché Spagna ha preso posizione, Francia ha posizione, Germania ha preso posizione, tutti hanno preso posizione e l'Italia no perché in realtà all'interno del governo c'è una componente filo madurista a parte quel deficiente di grillo che ha tolto dal blog quello che lui aveva detto nel passato cioè che Maduro era il suo mito insieme a Chavez però vi vorrei segnalare perché ogni tanto ci dimentichiamo quando io penso a Venezuela vi vorrei segnalare il paese ricco sfruttato dall'America pieno di petrolio pieno di oro tutte minchiate diciamo marx storicistiche di questo tipo però c'è un piccolo aspetto ma scusate ma se siete così bravi i comunisti dei miei stivali i marxisti così caraibici gente tipo Maduro e Chavezza mi spiegate perché in Venezia il 90% della popolazione fatta da 30 milioni di abitanti è sotto la soglia di povertà me lo spiegate santo Dio o non me lo spiegate rompete i coglioni a noi perché dite che in tutto il mondo c'è la disuguaglianza quindi il capitalismo fallisce e nel paese unico al mondo in cui c'è il 90% di popolazione non siamo nella profonda Africa stiamo in un posto pieno di petrolio e che era ricco Caracas era una città straordinaria beh come mai nell'unico paese che vede la disuguaglianza aumentare con il 90% di persone sotto alla soglia di povertà e un 10% che se la cava e come è possibile che sia governato da un dittatore comunista e me lo spiegate io voglio sapere fenomeni che rompete le balle a Davos sulla disuguaglianza Oxfam no perché Oxfam che è fatta dai signori pagati da tutte le multinazionali io sono andato una volta alla cena di Oxfam a Milano c'era tutta l'imprenditoria italiana che si doveva pulire la coscienza per dire la disuguaglianza aumenta sì vai in Venezuela dove non c'è il capitalismo e vedi come aumenta la disuguaglianza allora mi chiedo Davos invece di fare quelle robe che scrive oggi la verità straordinaria sapete cosa hanno fatto ai ricchi ma chi se ne frega che siano ricchi ai potenti di Davos qua dietro sapete cosa hanno fatto almeno io lo rivendico sto in un posto fico me la godo quelli sapete che cosa fanno là io adesso vado a sciare loro che cosa fanno fanno finta di fare i migranti cioè a Davos secondo un pezzo che oggi racconta magnificamente Giordano e la verità cosa hanno fatto hanno vestito da migranti per 5 minuti con quelli col fucile fanno finta di fare dei migranti che vengono dall'Africa all'Italia solo che stanno a Davos dopo aver sorseggiato la bicchierina di champagne come dice Giordano vogliono sentire l'ebbrezza di navigare sul Mediterraneo e poi dopo che hanno sentito questa ebbrezza magari ci faranno anche la paternale dicendo l'Italia sbaglia a chiudere i porti ma andate a quel paese e Davos ridicola sempre quest'anno più del sempre tra l'altro non ci sta andando nessuno tra l'altro giorno ho visto la faccia della Marcegaglia avete presente sapete chi sembra la Marcegaglia sembra Mickey Rourke cioè si è talmente rifatta avete presente Mickey Rourke quando fa il pugile che è totalmente rifatto guardate ieri la foto sul sole 24 ore l'unico che ha coraggio di pubblicare un pezzo della Marcegaglia vedete la foto della Marcegaglia è quella di Mickey Rourke la stessa cosa lo stesso chirurgo plastico identico identici vabbè comunque Davos ve l'ho detto interesse pari a zero pari a zero anche tutta sta vicenda che i giornali godono come dei ricci sull'arresto di Stone Stone è un cretino cioè è quasi come grillo perché uno che si fa tatuare qua dietro sulla spalla la faccia di Nixon di cui è stato primo collaboratore negli anni 70 è un cretino cioè tu la faccia sulla spalla di Nixon non te la puoi fare però deve essere un cretino molto smart perché ha lavorato per Nixon ha lavorato per Reagan ha lavorato per Bush senior ma il fatto che abbia lavorato per Trump lo ha reso per i giornali italiani come si fa una specie di delinquente una specie di come posso dire di casa monica di Washington questo è Stone quindi quando lo arrestano per tre minuti poi gli danno anche con 250 mila euro esce dal carcere come sostiene in America insomma diventa per gli italiani ecco Trump il Russiagate che poi il Russiagate è la trattativa stato mafia americana cioè una cagata pazzesca sostanzialmente cosa sarebbe successo che si sarebbe approfittato di alcune informazioni che arrivano da in maniera obliqua dalla Russia Trump e il suo comitato elettorale per sputtalare Hillary Clinton e sai e sai che grande vicenda insomma a me mi sembra pari a zero ma comunque sia per questo il Russiagate arrestano e poi rilasciano questo signor Stone che parte da Nixon e arriva Reagan passa per Bush e finalmente finisce con Trump che diventa l'icona del trumpismo disgustoso io la trovo straordinaria Zucconi oggi vi divertite quanto gode che hanno arrestato Stone in realtà non gode per l'arresto che non c'è stato ma gode per il fango che arriva sul suo truce Trump che tanto odia vabbè comunque sia per chi è appassionato di queste cose fatevene una ragione oggi c'è su tutti i giornali molto più interessante sui giornali scritto in piccolo perché spende un sacco di soldi di pubblicità lo so io che vivo di pubblicità sul sito qua su Facebook no quando ti fanno la pubblicità stai un po' attento a scrivere notizie ma secondo voi se indagano un'azienda per un miliardo e quattro di evasione fiscale e se quell'azienda fa marchi come Gucci, Bottega Veneta, Ricciagginori e chi più ha e ne metta e si chiama Kerings di Pinot secondo voi sui giornali doveva finire in una notizia in economia o su tutte le prime pagine dei giornali ovviamente in economia ma io lo so non lo dico con moralismo è la nostra vita noi siamo pagati dalla pubblicità e quindi dobbiamo stare attenti se io avessi avuto Gucci forse sarei stato più attento così guarda ve la dico tutta seria e quindi un'evasione da un miliardo e sei di questa multinazionale va a finire là presunta evasione vedremo se la guardia di finanza come ha fatto con Google come ha fatto con Facebook come ha fatto con Amazon riuscirà a dimostrare la cosiddetta stabile organizzazione di Gucci che pagava le tasse in Svizzera al 9% non in Italia io su queste cose voglio dire alzo sempre le braccia e dico vedremo non mettiamo in galera e non uccidiamo quelli che hanno un accertamento della guardia di finanza perché non si può mai sapere se la guardia di finanza ha più o meno ragione quelli sparano alto per poi ottenere qualcosa che non sempre ottengono quindi stiamo attenti a vedere quello che è ma la notizia obiettivamente c'è pagina 112 dei giornali Facebook e questa è l'altra notizia ieri Zuckerberg scrive un'unitile lettera a Repubblica che abbiamo commentato ma oggi su New York Times pubblicano la notizia che tutti quanti invece dovrebbero leggere e cioè Facebook unisce Whatsapp e Instagram che sono due società che ha comprato i cui fondatori se ne vanno via come racconta oggi Repubblica e il Corriere della Sera se ne vanno via da Facebook perché non volevano esattamente quello che farà Zuckerberg e che oggi secondo retroscena del New York Times avverrà cioè unirà i dati e farà una sola piattaforma di questi tre grandi social vi faccio un esempio, lo fa oggi proprio il Corriere della Sera o il giornale anzi il giornale che ne parla molto di questa vicenda con Lombardo e Francesco Del Vigo e cioè che cosa dicono? dicono ragazzi Whatsapp per dirne una cioè i numeri di telefono pensate un po' voi che cosa vuol dire mettere insieme tutte queste robe Sallusti oggi è l'ultima notizia di giornata celebra i 25 anni di Forza Italia è normale anche che sia così è un grande partito nato nel 1994 l'intuizione di Berlusconi nel bene o nel male è rappresentato gli ultimi 25 anni della storia politica di questo paese e alle europee si ricandiderà e devo dire che è molto interessante tutta l'analisi che fa Sallusti soprattutto su un aspetto e cioè che il problema di Forza Italia negli ultimi 25 anni la sfiga sua è stata che quando ha avuto maggioranza in Parlamento non ha mai avuto la maggioranza nel momento in cui si eleggeva un Presidente della Repubblica perché ha detto se avessi incrociato queste maggioranze probabilmente la storia di Forza Italia che è fatta di errori ma anche di sfighe avrebbe cambiato un po' la nostra storia Ivan dice Forza Italia è morta come oggi manca Françoise nota Carolina strano forse ho fatto un portarpi molti di voi sono dell'idea che Forza Italia non ci sia più Sallusti non è di questa idea e Ricolfi oggi vi segnalo l'ultima cosa ci dice che tutti sono contro i sovranisti in questo nuovo manifesto della sinistra e sbagliano perché hanno cambiato e hanno cannato completamente messaggio se questi pensano di vincere con il manifesto di Calenda che lui considera un uomo molto intelligente politicamente non hanno capito dove è stato il voto dei sovranisti e non riescono a capire che non è criticando i sovranisti e appoggiando l'Europa che loro riusciranno a creare un grande partito della sinistra che possa avere un senso alle prossime europee ma oggi cos'è Forza Italia? perché non ci spiega cosa fare a Strasburgo? bene, questa è una domanda che bisognerebbe rivolgere ai candidati di Forza Italia e che grazie a Dio non vedono me tra le loro fila anzi, io continuo a fare questo mestiere bellissimo in cui posso sparlare di tutti senza assumermi nessuna responsabilità se non quello che dico va bene un grande saluto a tutti quanti voi buon fine settimana noi ci diamo appuntamento al sito nicolaporro.it per tutte le informazioni di giornata domani con la zuppa di porro ciao